Oggi 4 giugno, la Gazzetta dello Sport, essendo domenica la Gazzetta Sportiva, titola così in relazione in particolare all'Inter. Sogno d'oro, undicesima vittoria in 12 gare, Inter pronta per il City con un bel meno 6 in alto a destra, che sono i giorni che mancano alla finale di Champions. Torino battuto, Inzaghi è terzo e punta la Champions. Virgolette ce la giocheremo, ma Pep trionfa ancora e vuole il triplete. Ha vinto l'FA Cup, il Manchester City. Inzaghi è terzo. Come ci si è arrivati a personificare Inzaghi con l'Inter nei giudizi positivi? Come è arrivata Gazzetta dello Sport a titolare in maniera così trionfale a sostegno dell'Inter come se fosse una stagione straordinaria, anche se è stata una stagione fallimentare dal punto di vista del campionato? Troppe sconfitte, troppi passi falsi e appunto neanche il secondo posto blindato dalla Lazio per quanto sia sicura la qualificazione alla prossima Champions League. Si sia vinta la Supercoppa Italiana, si sia vinta la Coppa Italia e appunto c'è il sogno Champions. Ci si è arrivati da una distanza siderale, da un punto completamente opposto, diametralmente opposto. E lo andiamo a vedere con una breve carrellata di prime pagine di Gazzetta dello Sport di questi mesi del 2023. Cominciamo con quella dell'11 marzo, senza scuse, Inter shock alla Spezia, l'ottavo KO, decidono Maldini e Nzola, Inzaghi, mi prendo le colpe, ma il club è stufo, martedì col porto si gioca la panchina, confronto tifosi squadra. Già l'11 marzo Inzaghi si giocava la panchina e aveva vinto Supercoppa Italiana e Coppa Italia l'anno prima, con ritorno agli ottavi di Champions dopo molti anni e Supercoppa Italiana due mesi prima, un mese e mezzo prima di questa prima pagina. Però si giocava la panchina per tutto quanto il resto. Certo, il momento dell'Inter non era brillante, anzi era pessimo dal punto di vista della classifica del campionato, ma vediamo l'evoluzione delle successive prime pagine. Quella del 2 aprile è la più emblematica, anche qui era una domenica. Gazzetta Sportiva disfatta l'Inter capò a San Siro con la Fiorentina, Inzaghi in bilico. Decima sconfitta in campionato e crisi, ultimatum del club, si gioca la panchina contro Juve, Salernitana e Benfica. Beh, sappiamo com'è andata al netto della Salernitana, anche se poi, come avete visto, di fianco c'era un La Juve va al max. Ecco, ma il riferimento ad Allegri è purtroppo molto importante nell'analisi delle tendenze di interpretazione, di valutazione, di commento di Gazzetta dello Sport in questi mesi sull'Inter di Inzaghi, nel senso che c'è stato un po', ma solo un po', di doppio pesismo. E lo vediamo benissimo dalla prima pagina del 4 aprile, cioè il giorno della semifinale di andata di Coppa Italia. Sotto a chi Coppa, Juve-Inter non finisce mai, andata semifinale ore 21, Allegri insegue un trofeo, Inzaghi rischia la panchina. E stiamo parlando di un Inzaghi che aveva portato l'Inter agli ottavi di Champions League e a vincere la Supercoppa italiana, e di un Allegri che non stava certo molto meglio, molto meglio, non molto meglio di Inzaghi o comunque dell'Inter in campionato, ma aveva portato la Juve ad una sola vittoria su sei partite in Champions League, eliminazione umiliante con un sacco di record negativi per la storia della Juventus, e misera Europa League con appunto la semifinale di Coppa Italia nella sfida proprio contro i Nerazzurri. Come potesse nella posizione inferiore Allegri giocarsi un trofeo e nella posizione superiore e migliore Inzaghi giocarsi la panchina, non è dato sapere. E nella stessa settimana, 8 aprile, l'Inter pareggia contro la Salernitana, altro momento flop, inferno Inter, rischiano tutti a cominciare da Inzaghi, pari beffa a Salerno, un solo punto in quattro gare, col Benfica si giocano il futuro tecnico e giocatori, Lukaku flop va a scusarsi. Ma la panchina Inzaghi non doveva giocarsela già con la Juventus e con il Porto? Com'è che adesso se la gioca con il Benfica, cioè l'avversario successivo al Porto? E infatti, sempre Gazzetta dello Sport, il 12 aprile vediamo come titola dopo la vittoria 2-0 contro il Benfica. Benfica ha battuto 2-0, semifinale vicina, Inter da sogno. Inter da sogno, non Inzaghi. E in copertina ci sono i giocatori. Capolavoro in Champions, Barella Lukaku in gol a Lisbona. Inzaghi, non è una rivincita. E queste virgolette non è una rivincita mi sanno tanto di risposta intrinseca di Gazzetta a Inzaghi. Come a dire, adesso non vorrai mica prenderti una rivincita su di noi che ti abbiamo detto che eri in bilico e che ti giocavi la panchina. No, assolutamente, hai solo vinto una partita, anzi l'hanno vinta i ragazzi. E poi andiamo avanti al 27 di aprile, Inter bella di Coppa, Juve spenta, Inzaghi va in finale 1-0. Questo è il giorno dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia. E quindi vediamo, decide Di Marco in erazzurri senza problemi, Allegri eravamo addormentati. E poi si ignora in crisi e con Max, futuro al buio, si comincia quindi a criticare o a mettere in dubbio Allegri dopo tutte queste settimane, tutti questi mesi in cui era solo Inzaghi, incredibilmente con risultati migliori ad essere in bilico. Però quando appunto Inzaghi batte Allegri, o comunque l'Inter batte la Juve e si qualifica per la finale di Coppa Italia, in prima pagina ci vanno i giocatori e non c'è nessun trionfo di Inzaghi, anzi. Per poi passare alla prima pagina del 17 maggio, la vittoria, quindi l'Inter che va in finale di Champions, superando definitivamente il Milan nella semifinale di ritorno. Dopo 13 anni ritorna in finale di Champions, delirio Inter con Lautaro in prima pagina, di fianco leggiamo il capolavoro nerazzurro non è finito, ha vinto la squadra più forte, quindi è merito della squadra e non di Inzaghi. E poi batte ancora il Milan, il 10 giugno a Istanbul si gioca la Coppa, Inzaghi un sogno, Zhang, Simone a lungo con noi e poi il commento di Maldini. Quindi qualcosina inizia a far breccia nel cuore di Gazzetta dello Sport a favore di Simone Inzaghi. Ma non ancora, prima della prima pagina di oggi, 4 giugno e di qualcuna di questi giorni, il 25 maggio. Il 25 maggio non ancora, l'Inter alza la Coppa Italia, la seconda in due stagioni e quindi il quarto trofeo. Lautaro è strepitoso, Lautaro, non Inzaghi, il trofeo resta nerazzurro. Inter è qui la Coppa, trionfa chi sa reagire, si legge nei commenti e poi ribaltata una bella Fiorentina 2-1 è la nona Coppa Italia. Inzaghi, grande stagione e ora ci prova contro il Super City. Quindi Inzaghi in bilico, Allegri si gioca il trofeo, Inzaghi la panchina, Inzaghi a rischio, Inzaghi messo in discussione sulla graticola per mesi, per settimane. E poi all'improvviso Inzaghi è terzo e c'è il sogno Champions. Il tutto, ripeto, sarebbe stato anche accettabile se contemporaneamente fosse stato trattato alla stessa maniera, per esempio Allegri, e cioè criticandolo. Invece, contemporaneamente si è assistito, sulle prime pagine nei contenuti di Gazzetta in questa stagione, ad una esaltazione di Allegri nonostante risultati negativi o pessimi e ad un abbassamento e ad una contestazione, ad una critica aspra nei confronti di Inzaghi nonostante risultati tendenzialmente ottimi. Al netto delle sconfitte in campionato, sulle quali anche Inzaghi ha fatto mea colpa, perché anche qui c'è una differenza tra chi sbaglia e si assume la responsabilità, e chi sbaglia e dice di non avere colpe. E Gazzetta dello Sport avrà le sue colpe nella gestione mediatica, nella comunicazione e nella narrazione di questa stagione calcistica 22-23 per quanto riguarda le analisi sui singoli allenatori? E chissà quali sarebbero state le prime pagine di Gazzetta se Allegri fosse stato allenatore dell'Inter e avesse ottenuto i risultati che ha ottenuto con la Juventus e Inzaghi fosse stato allenatore della Juventus e avesse ottenuto i risultati che ha ottenuto invece con l'Inter. Ma non lo sapremo mai, possiamo solo immaginarlo. Grazie a tutti.